eccoci qua allora oggi pomeriggio vogliamo parlarvi di una cosa molto bella sapete che tra poco ricorre il primo anno del lockdown totale 9 10 marzo che ci ha visti tutti chiusi dentro casa le scuole chiuse sono estremamente doloroso pesante tanti bambini io ne conosco molti hanno cominciato a parlarsi attraverso i mezzi moderni computer il tablet a fare insomma delle video chat alcuni di loro sono messi insieme proprio giocare pomeriggio passare il tempo giochiamo a maestre giochiamo che so io a fare la spesa insieme coloriamo disegniamo ecco allora è nato un libro molto bello che riguarda la voglia di avventura il contatto con la natura la conoscenza degli animali perché un gruppo di bambini ha incontrato sulla sua strada un maestro molto particolare che è fabrizio carbone giornalista scrittore pittore ambientalista antelitteram dei fondatori del wwf italia ciao fabrizio nonché caro amico come stai caro bene sto bene per fortuna sì tutto bene allora lezioni di felicità si chiama questo lavoro che presentiamo oggi che racconta una serie di viaggi immaginari che hai fatto con un gruppo di bambini durante il lockdown vero come nata 11 settimane alla fine eravamo in 18 ma guarda la cosa particolare che all'inizio eravamo quattro poi sei poi otto e man mano quelli che arrivavano volevano di volevano disegnare quello che avevamo disegnato prima e quindi si volevano rimettere nel nel circuito e alla fine siamo eravamo diciotto e casualmente nove bimbe e nove bimbi ed è stato molto interessante ecco sotto la tua guida perché tu sei un grande esperto della natura delle questioni ambientali avete fatto una serie di viaggi vero dove siete stati questi viaggi immaginati il primo viaggio lo volevano fare loro loro volevano andare e fare la battaglia tra il calamaro gigante il capodoglio gli era venuta fuori questa cosa che non è è una cosa molto fantastica e non ha un luogo preciso però ho detto visto che lo volete fare facciamolo gli ho cominciato a far vedere come si disegnava un capodoglio o come si disegnava un calamaro gigante ed è stato il primo viaggio eravamo solamente in quattro dal secondo viaggio invece ho preso io la mia la mia guida e abbiamo cominciato con il deserto del Sara e pensa che la cosa bellissima di questi bimbi di questi artisti io li chiamo i miei artisti e che loro non hanno mai detto una una parola di dicendo ma come qua io non sono non sono capace non so come fare gli ho fatto disegnare l'uro mastice che è un rettile che si vede solo nel sale che nessuno conosce oppure il gerbillo che quel quel piccolo proditore più meraviglioso che che combatte con la con la vipera cornuta con o con il lo scorpione giallo e capisci ma loro si sono buttati non hanno mai protestato abbiamo fatto anche delle lezioni che sono durate due ore è stata una cosa incredibile perché le lezioni non erano solo di disegno erano anche di zoologia no di geografia di storia prima prima vedendo il documentario bellissimo sulla patagonia quando si vedeva la balenotte era comune che l'animale più che sia mai esistito più grande del mondo con loro abbiamo discusso di balene perché abbiamo siamo andati anche a vedere le balene in alaska e io gli ho detto ma secondo voi perché una balena così grande si chiama balenottera e loro non capirono le cose poi gli ho detto guardate che la parola latina è balenopterus per cui la traduzione letterale balenottera è sbagliata e allora hanno detto ma si è sbagliata tutti contenti a dire che è sbagliata perché infatti è la balena col pterus con lo in rostro per cui balenottera uno dice ma come la più grande del mondo può essere così piccola balenottera invece senti fabrizio tu vivi metà del tuo del tuo tempo in finlandia ormai da molti anni no sì da molti anni però negli ultimissimi anni un po molto meno perché siamo stiamo io ho 78 anni tanto per non li dimostri e quindi un pochino meno abbiamo rallentato ma ho vissuto conosco la finlandia da 34 anni ed ho una piccola casa di legno davanti a un grande lago che ha che lungo 72 chilometri di acqua potabile e dove passo l'inverno anche con meno 30 tranquillamente l'autunno ecco com'è il mondo visto da lì è particolare tanto i cambiamenti climatici sono molto evidenti sono molto forti si vedono moltissimo in che pensate anche in questi giorni io guardo continuamente le temperature abbiamo avuto delle temperature intorno ai meno 27 meno 28 che non è quello che c'era un po di anni fa ma poi in pochissime ore passa a zero a più due quindi ci sono 30 gradi a volte anche di più di 24 ore in 30 ore di cam di di mutamento pazzesco certo è un mondo pieno di animali noi nel giardino e io e patrizia che tu conosci mia moglie abbiamo il gallo cedrone che viene in giardino abbiamo l'alce che viene in giardino ecco cosa ti preoccupa di più del futuro per il pianeta e cosa invece ti da più speranza caro fabrizio guarda cara sveva a me a me preoccupa preoccupa io vedo come aumenta la popolazione umana noi siamo l'unica specie che aumenta in modo spaventoso rispetto a tantissime specie che invece stanno in estinzione noi stiamo vivendo una grande estinzione di massa mentre noi specie homo sapiens sapiens ogni cinque giorni aumentiamo di un milione stiamo arrivando velocemente agli otto miliardi velocemente e pensavamo po po di anni fa ti parlo che quando io lavorava panorama scritto diverse inchieste sulla popolazione si diceva che mai saremmo arrivati a sette miliardi non ci saremmo mai arrivati e quello il professor eric che parlava di queste cose e aveva previsto sbagliando di in meno aveva previsto questo aumento dei sette miliardi l'avevano preso per pazzo e questo è una cosa che mi preoccupa tanto perché l'ottanta per cento di quei bambini che nascono ogni cinque giorni un milione in più sono tutti l'ottanta per cento viene dai paesi poveri dove non c'è nulla certo e perché poi la pressione sui sistemi naturali è molto pesante ma invece cosa ti dà speranza le speranze me le danno i ragazzini i giovani i giovanissimi perché li ho visti molto molto presi ma poi guarda sono anche molto competenti e molto più avanti di quello che eravamo noi no ti posso dire io c'è no cinque che sono irriducibili vogliono continuare non mi mollano siamo andati l'altra settimana sa perché io li faccio di sabato siamo andati nell'isola di comodo gli ho fatto disegnare il drago di comodo no ho detto guardate allora perché io gli faccio il disegno poi glielo metto lì dicono lo dovete disegnare e loro non dicono ah non dicono niente loro tranquillamente disegnano poi si divertono perché poi io gli do allora ho detto andiamo andiamo a vedere gli uccelli del paradiso ho detto guarda scatenatevi e fateli come più vi diverte fateli anche creativi fateli inventateli e loro fanno delle cose fantastiche però sono competenti sanno le cose non mi dicono mai ma questo animale è pericoloso però io loro lo sanno dico ma voi lo sapete qual è l'animale la specie umana la specie più pericolosa del mondo è l'uomo l'uomo è la specie più pericolosa purtroppo è così purtroppo è così e loro sono bravi bene sono bravi hanno fatto e guarda il libro ti posso dire il libro è merito loro è bellissimo questo libro è davvero pieno di gioia e speranza sul futuro abbiamo dedicato una pagina a fulco pratesi perché li ho portati nella laguna di orbetello nel nella zona umide della della toscana della maremma e gli ho fatto disegnare il cavaliere d'italia che come tu sai è l'uccello famoso di fulco e glielo abbiamo mandato lui si è commosso tant'è vero che poi ci ha fatto lo saluto pulco è anche noi lo salutiamo grazie fabrizio ti ringrazio tanto sei stato con noi oggi pomeriggio un abbraccio virtuale però pieno d'affetto ciao alla prossima grazie a fabrizio carbone